...comminare i contratti davanti a voi, se voi... Scusami, Phil. ...con il signor Morse da solo. Grazie. Beh, signori, avete sentito. Aspettate fuori. Anche tu, Phil. Che significa? Che vorrei parlare con il signor Morse da solo. Perché lui deve restare? Ti prego, ti prego. Io sarò qua fuori. Bene. Va meglio così. Benissimo. Gradisce un caffè? Forte. Bene. Signor Morse, il mio interesse per la sua compagnia è cambiato. E dove vuole arrivare adesso, signor Lewis? Io non voglio più comprare la sua compagnia e parcellizzarla. E non voglio nemmeno che lo faccia qualcun altro. Ed è ancora estremamente vulnerabile. Perciò mi sto muovendo su un terreno che non mi è familiare. Io voglio aiutarla. Perché? Perché? signor Morse, forse possiamo fare qualcosa di molto speciale della sua compagnia. E riguardo ai contratti con la marina? Non sono morti. Solo rimandati e avevo un po' bleffato. C'è riuscito. I particolari possiamo lasciarli agli altri. Trovo difficile dirlo senza apparire condiscendente, ma... Ha la mia stima. Grazie. Penso che ora possiamo far tornare gli altri. Proseguiamo la riunione. Entrate, signori. Sedetemi. Edward, per favore, cos'è questa storia? Tocca a te, Phil.